La faraona ubriaca Ciao a tutti e benvenuti nel canale In Cucina con Graziella dunque sono felicissima perché il mio canale ha raggiunto i 1000 iscritti e questo lo devo a tutti voi che mi state seguendo e spero che vi piacciono sempre le mie ricette quindi ringrazio tutti Graziella ringrazia Allora, festeggiamo con questa ricetta la gallina faraona ubriaca l'ho tagliata, l'ho spezzata e l'ho leggermente lessata giusto un pochino poi l'ho condita con sale, pepe e olio e l'ho insaporita con cipolla, carota e sedano naturalmente ubriacata con il vino bianco ecco qui la lascerò marinare un paio d'ore e poi andremo in cottura dunque per avere informazioni riguardo all'allevamento della gallina faraona basta andare in descrizione dove troverete sia i video che le informazioni sull'allevamento della gallina faraona In cottura un filo d'olio extravergine d'oliva ho tagliato un bel po' di lardo a cubetti e lo farò sciogliere cipolla allora tutto questo lo taglierò a pezzi più grandi ma poi sarà tutto frullato e faremo la salsetta di accompagnamento alla faraona quindi anche se taglio a pezzi più grandi non importa cipolla guardate il lardo come diventa più giallo trasparente in cottura aggiungo la carota faccio rosolare copro e faccio rosolare in 5 minuti e poi aggiungo il brodo vegetale per continuare la cottura della faraona siccome la faraona come vi ho detto l'ho appena sbollentata una decina di minuti ci vorranno circa 40 minuti per la cottura allora la nostra faraona è cotta l'ho impiattata guardate com'è bella ora frullerò il fondo di cottura quindi cipolla, carota, sedano e il brodino che ha cacciato la nostra faraona dunque se volete potete fare anche con il mortaio il vecchio mortaio non si sbaglia mai quindi nell'uno e nell'altro sistema la faraona è pronta guardate è buonissima fatela anche voi perché farete contenti tutta la vostra famiglia io vi saluto e vi invito come sempre iscrivetevi al canale attivate le notifiche ciao 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 ciao